E' un Dario Fo meno conosciuto, per certi aspetti addirittura insospettabile quello presentato ad Arezzo nella mostra Dario Fo. Mi sento attore dilettante e pittore professionista, ospitato nella galleria d'arte La Chimera. Lui diceva, avendo fatto poi la Brera, io sono attore dilettante e pittore professionista, quindi lui al 20% era un attore e si riteneva l'80% artista, un artista che probabilmente mi è stato raccontato che lui non ha proseguito questa carriera nell'arte pittorica perché non accettava la critica, i mercanti soprattutto, i mercanti dell'arte, non entrare in questo mercato dell'arte. Il percorso si snoda nelle suggestive sale di Palazzo Chianini-Vincenzi e ripercorre attraverso una selezione di circa 50 opere l'impronta artistico-pittorica di Dario Fo. Certamente qui vediamo delle opere tra l'impressionismo, tra il classico, una ricerca storica, una cultura nel disegnare, nel colore, ma nella cultura dell'interpretare, del creare i personaggi, che si fa riferimento al suo teatro, a quello che lui poi recitava e portava in scena, quindi racconta quello che dipinge e quello che poi porta in scena.